Nell'ambito di Cabinart, progetto pilota di rigenerazione urbana promosso dall'uffiso di scopo Politiche Giovanili di Roma Capitale, in collaborazione con Zetema Progetto Cultura, in piazza di Villa Carpegna si trova la cabina dismessa della polizia locale, riqualificata dall'opera del duo artistico motore fisico, composto da Lorenzo Pagliara e Gian Maria Zonfrillo. Per l'intervento pittorico sui quattro lati della cabina, il duo artistico ha scelto un pattern geometrico, elemento che connota la propria cifra stilistica. Il disegno, realizzato in bianco e nero, si ispira alle composizioni geometriche che, a partire dalle trame decorative astratte del mosaico romano, hanno poi costituito uno dei tratti caratteristici sia della storia antica che di quella moderna del nostro paese, e più in particolare della città di Roma, passando per il periodo Michelangelesco e arrivando a Carlo Maderno. Più di recente, questo pensiero compositivo è stato ripreso anche da alcuni architetti laziali. Lo schema di decorazione della cabina è quello del camouflage, il pattern che la veste, con questo nuovo abito, esalta le qualità volumetriche della struttura, esaltandone le linee e trasformando radicalmente l'oggetto in questione. L'opera pone inoltre l'attenzione sulle tematiche ambientali, mettendo in evidenza la natura e la sostenibilità necessarie per la sopravvivenza della terra. Attraverso questi interventi di arte figurativa e di street art realizzati da giovani artisti, il progetto Cabinart ha ridato vita a sei cabine dismesse dalla polizia locale, riqualificandole in chiave culturale. Cabinart quindi è un'azione di rigenerazione urbana creativa ed innovativa, che ridando vita a strutture dismesse e isolate dal contesto urbano, le trasforma in elementi artistici che dialogano con la grande ed eterna bellezza di Roma.